Il turismo come volano di sviluppo per eccellenza in un comune che ha in ponte una serie di progetti e iniziative chiamate, non a caso, Cavriglia 4U. E venerdì prossimo saranno presentati alle 17 in un convegno in programma al Museo Mine nel Vecchio Borgo di Castelnuovo dei Sabbioni. Venerdì 29 maggio presenteremo il pacchetto turismo Cavriglia che si chiama Cavriglia 4U. È un pacchetto molto complesso, completo, che prevede dall'attivazione della Cavriglia Card a delle nuove mappe, quindi il rispetto della tradizione, ma anche guardando al futuro con delle applicazioni per iPhone. Presenteremo il nuovo Parco Avventura, il campo promozionale per l'attività di golf, il nuovo centro di accoglienza sulla Chiantigiana. Insomma, sono tante iniziative volte al turismo, perché crediamo, l'avevamo scritto nel programma elettorale, lo abbiamo detto in campagna elettorale, che uno dei settori su cui dobbiamo maggiormente concentrarsi è proprio quello del turismo, soprattutto confortati ed incoraggiati dai grandi risultati ottenuti negli ultimi anni da Cavriglia. L'area della ex miniera, insomma, è il comune che è porta del Chianti, si candidano senza mezzi termini a diventare capitali del turismo di Vallata. Grazie.